stato denunciato l'intera redazione del programma, dopo aver visionato un'intervista resa da un'attempata Gina Lollobrigida. Nel corso degli anni, del resto, la conduttrice ha dovuto fronteggiare molte controversie, non ultime quelle con l'ex dirigente Rai Giancarlo Leone, sfociate infine in un controverso licenziamento. Correva l'anno 2014. Imara Venier ha ricevuto un feedback impietoso dal dirigente della pubblica emittente. Un aiuto insperato è giunto dalla celebre collega Maria De Filippi, veterana nelle reti del Biscione, che le ha gettato un salvagente provvidenziale durante la tempesta perfetta il Rai. L'attestata il Democratico e riporta le sue parole, non posso che ringraziarla anche ora, e qui, perché mi ha teso la mano in un momento terribile della mia vita, sia sul piano personale, che professionale. Lei, quando la Rai mi aveva licenziato, quando Leone mi ha detto che ero vecchia, Maria mi ha dato un lavoro. Grazie a tutti.